Meditazione guidata per energia positiva, relax e pace. Mettiti in una posizione comoda, con le spalle rilassate, le braccia rilassate, e ascolta il suono della mia voce. E via via che ascolti il suono della mia voce e respiri, non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te lentamente sta cambiando. E via via che tutto cambia, tu entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Sempre più profondo. E continui a continuare. Ascolti, continui. Ricordi di dimenticare e dimentichi di ricordare. e assorbi energia positiva della vita. La vita ti porterà energia positiva. Mentre ascolti il suono della mia voce e respiri, ti rilassi sempre più profondo. Ti rilassi sempre di più. Ti rilassi sempre di più. Mentre il tuo corpo diventa sempre più pesante, la tua mente diventa sempre più leggera, sempre più leggera. E continui a continuare. Continuando a ascoltare e ascoltare il suono della mia voce e a respirare. Mentre continui ad ascoltare e ascoltare il suono della mia voce, diventi sempre più rilassato e rilassato. E la tua mente vaga libera, puoi alzarti, innalzarti in alto e iniziare a vagare e espanderti sempre di più. Puoi notare che la tua mente si espande sempre di più, cresce sempre di più, fino a occupare tutto l'universo. E mi ascolti sempre e continui ad ascoltare il suono della mia voce. Inspira ed espira, inspira ed espira, inspira ed espira ed entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo. La tua mente si espande in tutto l'universo e puoi raggiungere ogni punto dell'universo, dare amore, relax e pace a tutti gli esseri dell'universo. E ricevere amore, relax e pace a tutti gli esseri dell'universo. Inspira ed espira ed espira. Inspira ed espira. Io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. Io mi amo e mi accetto così come sono. Inspira ed espira. Io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. Inspira ed espira ed espira. E adesso la tua mente dall'infinito può scendere dall'infinitamente piccolo, dall'infinitamente grande. puoi entrare dentro ogni tua cellula. Puoi entrare dentro ogni tua cellula. dentro ogni cellula del tuo corpo. Puoi entrare dentro ogni cellula del tuo corpo. e portare l'energia pulita, energia di guarigione. Puoi stare sempre a me, puoi stare sempre a me. Inaspiri ed espiri e via via che ascolti il suo grande voce, stai sempre a me, sempre a me. Inaspiri ed espiri. E adesso puoi tornare nuovamente al Quedore nel tuo corpo. Sentendoti bene, tranquillo, tranquillo, rilassato, rilassato, portando con te una sensazione di benessere profondo. Una sensazione di rilassamento profondo. Ripeti questa meditazione più volte al giorno per poter sviluppare sempre l'energia positiva, relax e pace. E adesso, mentre continui ad ascoltare il suo grande voce, respirare, fai tre respiri profondi, trattenendo l'aria alcuni istanti e poi lasciandolo uscire fuori, fino in fondo, con la bocca. E al termine di questi respiri profondi dovete trattare per alcuni istanti. Liberati completamente, liberati completamente. E apri dolcemente gli occhi, portando con te l'energia positiva, la consapevolezza che ogni volta che farei questa meditazione, l'energia aumenterà, il relax aumenterà e la pace interiore aumenterà. Condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale e naturalmente su TikTok.